Musica Benvenuti alla TG10, oggi l'apertura dal telegiornale dedicata all'area di crisi complessa per Gela. L'amministrazione comunale sta accelerando i tempi. Previsto un incontro a Roma con i vertici dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e braccio esecutivo del Ministero dello Sviluppo Economico. Per il prossimo 15 settembre l'incontro a Roma con i vertici di Invitalia SPA, agenzia per l'attrazione degli investimenti e braccio esecutivo del Ministero dello Sviluppo Economico. L'amministrazione comunale di Gela accelera l'iter sulla questione area di crisi industriale complessa affrontando l'ultimo ostacolo. L'obiettivo è quello di mettere nero su bianco su determinati punti. Politiche attive e passive del lavoro, interventi a sostegno delle imprese, bonifiche sganciate dai nuovi investimenti eni, interventi infrastrutturali ed incentivazione per la ricerca e lo sviluppo e contratti di sviluppo per l'avvio di attività diversificate e per il rilancio dei settori finora sottovalutati come l'agroalimentare ed il turismo. L'amministrazione si è fatto carico di redigere una bozza dell'accordo di programma, fondamentalmente un documento di programmazione capace di individuare le risorse economiche regionali, nazionali e provenienti anche da privati per poter attuare tutte quelle attività necessarie allo sviluppo del territorio. La cosa fondamentale è che questa azione che l'amministrazione ha voluto portare avanti facendosi carico del coordinamento e monitoraggio di tutte le azioni dell'accordo di programma è ben voluta da tutte le istituzioni. C'è stato richiesto di redigere questo documento, di condividerlo in modo che il 15 settembre a Roma si arriverà con un documento unico, congordato con tutte le istituzioni regionali, nazionali, al fine di accelerare su invitare a braccio esecutivo del mese la stesura esecutiva dell'accordo. Il Comune di Gela chiederà un impegno straordinario, dall'incontro del 15 settembre deve arrivare un segnale forte, un rilancio in grado di incrementare il pilla territoriale con la creazione di nuovi posti di lavoro. Come si concateneranno gli investimenti dell'Eni? Gli investimenti dell'Eni, quelli che soprattutto afferiscono al protocollo d'intesa, rappresentano uno degli assi fondamentali dell'accordo di programma. Fondamentalmente il protocollo d'intesa è un accordo tra un privato e delle istituzioni e come tale farà parte degli assi dell'accordo di programma che possono essere inseriti ad esempio nell'accordo di sviluppo. La cosa fondamentale è che negli assi dell'accordo di programma le bonifiche verranno sganciate dagli interessi relativi all'investimento di Eni per diventare un asse fondamentale, asse stante, che deve ridare al territorio quella riqualificazione necessaria per poter rendere produttivi nuovamente l'area industriale. Cambiamo argomento, non sono state ancora del tutto ricostruite le cause di un incidente stradale che ieri pomeriggio a Gela ha coinvolto una giovane 25enne ed un minorenne. La ragazza si trova in rianimazione all'ospedale Vittorio Emanuele. I medici le hanno riscontrato, un ematoma legato probabilmente all'impatto della testa sul salciato. La giovane viaggiava in sella ad uno scooter quando in via Licata si è scontrata con un altro motorino. I medici del nosocomio di Gela continuano a tenerla sotto stretta osservazione dopo averla sottoposta a TAC. È vigile e respira autonomamente. Sembra scongiurato l'intervento neurochirurgico. Il ragazzo invece è stato ricoverato nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. E adesso parliamo di liberi consorzi di comuni e di città metropolitane. Gela, Niscemi e Piazza Almerina attendono di emigrare dalle rispettive ex province per aderire a Catania. Adesso sarà compito dei rispettivi consigli comunali dire di sì. Due anni per partorire la riforma più annunciata ed amplificata della storia. L'addio alle province e la nascita dei liberi consorzi e delle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Il 30 luglio scorso l'Assemblea regionale siciliana ha detto sì. Le ex province andranno definitivamente in soffitta per lasciare spazio ai liberi consorzi tra comuni. Gela, Niscemi e Piazza Almerina, così come hanno ampiamente dimostrato nel referendum popolare, si staccheranno da Caltanissetta ed Enna per approdare a Catania. Per farlo bisogna che la maggioranza del consiglio comunale dica sì. Noi abbiamo la possibilità con una delibera a maggioranza dei consiglieri comunali di poter passare con la città metropolitana di Catania. Noi abbiamo scelto con il referendum di passare nel libero consorzio di Catania. Bene, possiamo chiamarlo in mille modi diversi se vogliamo. La realtà è quella. Abbiamo scelto di andare con Catania nel Catanese e dobbiamo necessariamente andare in quel territorio. Abbiamo sentito i sindaci, abbiamo sentito i consiglieri comunali di Gela, Piazza Almerina e Niscemi. Sono tutti all'unisono concordi in questa scelta. Abbiamo avuto il loro parere e la loro positiva risposta. Adesso dobbiamo attendere soltanto la pubblicazione in gazzetta ufficiale e dobbiamo subito, immediatamente fare la delibera in consiglio comunale perché dobbiamo cominciare ad entrare nel nuovo territorio, ma non solo. A breve ci saranno anche le elezioni dei nuovi enti intermedi. Noi dobbiamo fare in modo di fare subito al libero in modo tale che sceglieremo non il presidente del libero consorzio di Catanissetta, territori in cui noi siamo estrani, ma dobbiamo andare a scegliere chi sarà il nuovo sindaco metropolitano di Catania. E questo lo dovremo fare insieme a tutti gli altri comuni catanesi. Per questo motivo c'è estrema urgenza. La città di Gela si è espressa in modo molto chiaro e inequivocabile che vuole cambiare la sua attuale posizione politica territoriale. Con il referendum che è stato fatto l'anno scorso, il referendum voluto dal Movimento 5 Stelle perché sembra giusto dare voce alla cittadinanza, la città di Gela ha deciso di passare nel libero consorzio di Catania o città metropolitana che si divoglia. Non è che cambiando il nome cambia la sostanza. E di questo noi dobbiamo tenere conto e quindi la posizione dell'amministrazione è molto chiara, rispettare la volontà dei cittadini gelesi. Le analisi sulla possibilità o meno del futuro sindaco che guiderà la città metropolitana si deve fare in un secondo tempo. Mi auguro che si voti con una votazione palese, anche se dico che è sbagliato perché un referendum non può essere soppresso dal Consiglio Comunale. Questa è un'anomalia, forse è la prima volta che succede in Italia. Niscemi, Gela e Piazza del Merino hanno un obiettivo, quello di mettere insieme le risorse, le economie. La cultura che ci accomuna, la cultura greca, nulla abbiamo a che vedere. L'ho sempre detto con il vallone, anche se andare via da un consorzio significa lasciare anche amicizie, affetti, il lavoro che è stato fatto dai nostri predecessori, ma oggi l'opportunità ci spinge a dire, creare un nuovo percorso per dare sfogo all'economia che coinvolge queste realtà. Qualcuno ha pensato di cambiare tutto per non cambiare nulla, anche perché sperano che non ci sia l'adesione per rimanere tutto com'è. La verità è una, la garanzia dei collegi elettorali a livello regionale ancora una volta ha preso il sopravvento sulla volontà popolare di questi quattro comuni, compreso l'Ico di Aubea. Mi auguro che i consiglieri comunali facciano il proprio dovere, continuano ad andare verso quell'area che è il Catanese. Non ne faccio un mistero, mi candido a fare il presidente dell'area vasta, visto che l'unica cosa di buono che hanno inserito in questa legge è che chiunque si può candidare e non può essere solamente Bianco o Orlando o il sindaco di Messina, quindi lancio anche quest'altro messaggio, sono pronto a candidarmi. Quello che lo Statuto stabilisce, che la Costituzione stabilisce, cioè il diritto popolare, era stato sancito da un referendum, peraltro. Però, pur non di meno, il nostro governo regionale, il Parlamento regionale, ha portato questa legge, noi la utilizzeremo e porteremo in Consiglio Comunale per l'approvazione dell'adesione del Comune di Piazza Merina, naturalmente Gela e Niscemi, anche alla città metropolitana di Catania, così come abbiamo fatto allora. La nuova storia di questo territorio è cominciata già quando votammo, tutto l'altro è conseguenziale, perché do per certo che tutto quanto arriverà al traguardo che il nostro è il vostro e di tutti. Gela, Piazza Merina e Niscemi vogliono stare insieme. Gela, Piazza Merina e Niscemi vogliono stare insieme. Gela, Piazza Merina e Niscemi vogliono stare insieme. Scintilla in casa, Movimento 5 Stelle a Gela. Il Metap è stato commissariato. A dirigerlo sarà l'attivista Daniele Esposito Paternò. E quanto deciso ieri a causa, si legge in una nota, di una cattiva gestione, di un cattivo uso del regolamento. Il Metap interviene subito sulla vicenda legata all'ex assessore Fabrizio Nardo, silurato dal sindaco Domenico Messinese. Una questione, dice Paternò, che ha creato imbarazzo, disagio a noi stessi ed un danno alla città. È stato attraverso una votazione interna al Metap che si è scelto chi sarebbe stato il sindaco e chi sarebbero stati gli assessori. Abbiamo dato dimostrazione di quanto la democrazia si è bella ad applicare e quanto questa possa essere utile vincendo le elezioni. Sia Domenico Messinese che Fabrizio Nardo sono stati espressioni del Metap, aggiunge Paternò. La popolazione gelese ha dato fiducia con il proprio voto al Movimento 5 Stelle, non perché c'era Messinese o Nardo o Siciliano o Solenitro, ma perché tutti e quattro erano una sola squadra. Tagliare fuori Nardo dopo nemmeno un mese dal suo insediamento, rimarca Paternò, è stato come avere usufruito dalla sua illustre immagine per poi metterlo da parte. Ancora più grave è stato agire con rapidità, senza che questa fosse necessaria e senza concordare con il Metap cosa sarebbe stato utile fare, avendo così una linea comune tra chi governa e gli attivisti. Ringraziamo Fabrizio Nardo per essersi speso in risorse ed in immagine in favore del Movimento 5 Stelle e della cittadinanza gelese e per quello che gli è accaduto, si legge ancora, ci scusiamo sperando che le nostre scuse possano essere accettate. Per quanto riguarda l'amministrazione attuale, diamo il benvenuto a Fabrizio Morello in giunta, augurando a lui e a tutti quanti un buon lavoro. Esposito Paternò sottolinea anche che nonostante tutto nessuno è perfetto e che sbagliare è umano. Poi un invito al sindaco e a tutti gli esponenti del Movimento 5 Stelle, essere meno soggetti a personalismi i quali possono danneggiare sia la cittadinanza che il Movimento stesso. Ed ancora, una più assidua comunicazione e collaborazione nelle decisioni con il Metap, il quale riaprirà le porte ai cittadini una volta che verrà stilato il nuovo regolamento, attualmente in lavorazione all'interno della piattaforma grillina, ed eletto il nuovo portavoce ed organo garante. Al momento attuale, chiude il commissario Daniele Esposito Paternò, fin quando non sarà eletto il nuovo portavoce del Metap a Movimento 5 Stelle, qualsiasi dichiarazione degli iscritti sarà pura espressione personale. Di sì, di comune, cosa racconta, una. Sindaco, il Metap del Movimento 5 Stelle non è in linea con alcune decisioni prese da lei. Il caso importante è quello di Nardo. Addirittura il Metap chiede scusa a Nardo. Lei cosa dice nel merito? Io dico che ci sono persone che si permettono di cercare di rappresentare un gruppo di persone che è in modo del tutto autonomo. Io posso dire che il Metap è formato da persone, non è una semplice piattaforma, e nessuno si può prendere la briga di autonominarsi i commissari. Non voglio entrare nel merito, perché è una situazione che non si ci può dare una risposta. Non posso andare dietro ogni singola persona che è convinto, c'è delle convinzioni proprie, che non ha nessun riscoggio reale. Però se il Metap chiede scusa a Nardo vuol dire che ci sono delle colpe che sono state registrate nelle ultime ore. Mi scusi, lei mi dice il Metap, mi sa dire chi è il Metap? I componenti del Movimento 5 Stelle. Lei ha avuto evidenza di questa attività in questo senso? Lei dice che ci sono allora degli attriti tra lei, la Giunta e il Metap? Io non dico che non ho nessun attrito, tra me né la Giunta né col Metap. Io ho avuto questa mattina, ieri ho avuto Giunta, in modo molto tranquillo. Ho avuto poco fa una conferenza stampa dove c'erano quasi tutti gli assessori della nostra Giunta. Ieri sera ho avuto un incontro tranquillo con i consiglieri del Movimento 5 Stelle, cosa che è normalmente e giustamente, mi sembra, un rapporto normale. Io ho avuto pure un incontro proprio ieri con un gruppo folto di attivisti, credo eravamo una sessantina. Quindi io sinceramente queste realtà virtuali che sono totalmente lontane dalla realtà reale non li riesco a condividere. Poi ognuno si può alzare la mattina e dire di essere Napoleone, poi sta a vedere chi è, se realmente è così. Lei non condivide le scelte del Metap e sostanzialmente non li riconosce neanche. No, ma proprio là il punto è l'affermazione che, diciamo, quello che mi sorprende è andare a verificare la fonte da dove arrivano le informazioni. Perché a me non mi risulta che il Movimento 5 Stelle abbia nominato un col che sia commissario, non mi risulta che praticamente ci possa essere una persona che la mattina si alza e decide per un'intera collettività. Quindi bisogna ripetere, preferisco non approfondire e dare risposta perché se uno fa un attimo di riflessione credo che la risposta se la può dare da solo. Rieccoci, seconda parte del telegiornale. Vi ricordiamo che una volta che la nostra emittente, Canale 10, è visibile sul numero LCN 815, oltre al 612, dunque vi consigliamo ancora una volta di risintonizzare il vostro televisore. ...d'attraversare lo stretto di Messina per sostenere la donazione del sangue e lanciare un messaggio di solidarietà, donare e vita. Parliamo del Nisseno Nello Ambra, 69 anni, anche se non li dimostra, che anche quest'anno ha partecipato alla traversata della solidarietà promossa dalla FIDAS nazionale e giunta alla sua nona edizione. Donatori di sangue provenienti da tutta l'Italia si sono alternati nel tratto di mare tra Punta Faro a Messina e Canitello, a Villa San Giovanni, sfidando le acque dello stretto sostenuti dall'entusiasmo di quanti non sono voluti mancare all'appuntamento. Un'esperienza non nuova per Ambra, amante dello sport, che sinora ha partecipato a tutte le edizioni. Durante la traversata, circa metà stretto, verso il secondo chilometro, abbiamo trovato le correnti che ci sono sempre, ma molto più esagerate del normale. Quindi abbiamo dovuto cambiare rotta e abbiamo nuotato per circa un chilometro in controcorrente. Con questa traversata siamo contenti che è andata veramente al di là delle più rose aspettative, e lo dico non con soddisfazione personale, ma con entusiasmo a livello nazionale, perché questa è la FIDAS nazionale che ha organizzato questa manifestazione. Hanno partecipato a questa traversata soci donatori dal Veneto alla Sicilia, quindi eravamo più di una cinquantina attraverso allo stretto di Messina. E siamo doppiamente contenti perché siamo riusciti a sensibilizzare molti giovani, meno giovani, nella fascia dai 18 anni a 65 anni, a donare sangue. Perché purtroppo, ahimè, abbiamo un'emergenza di sangue a livello nazionale, ma particolarmente a Caltanissetta. A Caltanissetta manca letteralmente sangue. E quindi ne approfitto per fare un appello a tutti i donatori di sangue, prima di partire, donate sangue. Ma faccio un appello anche a chi non è donatore di sangue. E mi rivolgo, perché no, alla politica, ai consiglieri, alla Giunta, all'istituzione, alle forze dell'ordine, perché no, anche ai preti, ai parroci, di fare questo gesto. Perché se non hanno il sangue, i talassemici, quando ci sono degli incendi, purtroppo ce ne sono tantissimi, se non abbiamo il sangue, particolarmente i talassemici, non hanno medicina e si muore letteralmente. Il talassemico ogni 15-20 giorni ha bisogno di un litro di sangue, tre sacchi di sangue. E quindi faccio un caloroso appello a coloro i quali stanno bene, come me, hanno la fortuna di stare bene, di essere sensibili con le persone meno fortunate. Doniamo il sangue perché ci aiuta a stare anche meglio, quindi staremo bene sotto l'aspetto psicologico e anche fisico. E adesso la nostra consuetà rubrica in breve. Cominciano oggi i festeggiamenti in onore di San Sebastiano Martire, nell'omonima chiesa di Settefarine. Alle 18 è previsto il Santo Rosario, alle 18.30 Vespro e Coroncine in onore di San Sebastiano e alle 19 Messa e Meditazione. Inizia sabato 8 agosto nella Casa Francescana di Manfria a Gioela il triduo di preparazione alla festa di Santa Chiara d'Assisi, predicato quest'anno dal francescano Fra Bernardino dei Frati Minori Rinnovati di Palermo. Il tema della predicazione sarà la Regola di Santa Chiara, messa tutti i giorni alle 19. La festa avrà il suo culmine martedì 11 agosto con la solenne celebrazione eucaristica alle 18.30 e la processione per la via di Manfria con inizio alle 19.30. Il simulacro della Santa, come è ormai tradizione, verrà portato a spalla dalle Chiarine. La processione sarà guidata dal cappellano dell'oratorio pubblico Don Giuseppe Fauciana e accompagnata dalla banda musicale Francesco Renda, associazione culturale musicale gelese. Proseguono gli appuntamenti musicali nell'ex monastero delle Benedettine a Gioela. Domenica 9 agosto alle 21.15 è previsto il concerto lirico di Angela Curiale, soprano, Francesco Cusumano, tenore, e Giovanni Raddino, pianoforte. L'iniziativa è dell'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra con il patrocinio della Regione e del Comune. Il direttore artistico è il maestro crocifisso Lagona. Prenderà il via domani sul lungomare di Gioela, nei pressi di un rinomato Lido, il quarto torneo misto 4x4 di Beach Volley. La formula prevede la partecipazione di squadre composte da quattro giocatori, con l'obbligo di avere sempre in campo una ragazza, e l'inserimento di un solo giocatore tesserato, FIPAV. I giocatori Under-21 non sono considerati tesserati e possono giocare liberamente. Quest'anno, piacevole novità, parteciperanno anche squadre provenienti dai centri limitrofi, Scoglitti, Licata e Niscemi. Previsti premi anche per le prime tre squadre classificate, per il miglior giocatore, la miglior giocatrice, e tanti altri premi e gadget a sorpresa offerti da alcuni sponsor. Le finali avranno luogo domenica 9 agosto. Arbitreranno i match due arbitri d'eccezione, Rosario Ferracane e Pino Tipa. L'organizzazione è curata da Oscar Cammalleri. La pagina dello spettacolo continua la rassegna teatro e cinema sotto le stelle, promossa dalla compagnia teatrale L'Antidoto di Gela. Venerdì 7 agosto, dunque domani, la compagnia Hobby Club Acate porterà in scena come si rapina una banca, appuntamento previsto per le 21.30. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie e arrivederci. Grazie a tutti.